Ancora il Genoa in attacco, il rinvio di Esposito, Milanetto prova a rimettere dentro, c'è Leon, Leon, Criscito, accorcia le distanze il Genoa con Criscito, Bari 2, Genoa 1, l'appoggio di Leon e la rete di Criscito. E' uno dei più bravi del calcio italiano in assoluto, proprietà Juventus che lo ha riscattato spendendo una cifra importante, 7 milioni e mezzo di euro, per il momento Criscito sta guidando il Genoa a un grande campionato e qui lo ha rimesso in corsa sull'appoggio di Leon, Bari 2, Genoa 1.